Se oltre al cibo continuo a misurare ad occhio anche il peso corporeo, il dottor Nosaldana sarà felice di essere mio amico, ma diventare attore di telenovelas all'americana non mi carba tanto, quindi ho preso una bilancia a circa 8 euro della Tecnoacqua all'Eurospin, un pezzetto di vetro con circuito integrato, qualche sensore, uno schermetto abbastanza leggibile ed una batteria a bottone inclusa, tre unità di misura selezionabili, magari per sentirsi più magri o grassi, senza possibilità di tara, autoaccensione ed autospegnimento per un controllo veloce del peso. Comparando le misurazioni di pesi con altre bilance bisogna approssimare, non è sicuramente precisissima ma il peso corporeo non è questione di grammi. Per chi dovesse giudicare il mio peso dico che avevo addosso attrezzatura audio video da una tonnellata. Per chi dovesse giudicare il mio peso dico che avevo addosso, per chi dovesse giudicare il mio peso dico che avevo addosso, per chi dovesse giudicare il mio peso dico che avevo addosso, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.